Dalle prelibatezze gastronomiche al glamour e alla moda per una serata indimenticabile andrà in scena questa sera a lettere notte al castello sotto un cielo di stelle evento gastronomico volto a valorizzare le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche culturali e storiche dei monti lattari e che farà da vetrina ad alcune delle eccellenze del territorio L'evento di scena al castello medievale di lettere nasce dalla sidergia tra l'associazione tra cielo e mare in collaborazione con Aum Aum 2.0 e con il patrocino del comune di lettere Si partirà con una sfilata di moda per poi proseguire con un percorso di degustazione che vedrà impegnati 20 professionisti del settore tra chef, pasticceri e produttori molti dei quali hanno partecipato alla rinomata Kermesse Cenando sotto un cielo diverso da cui l'evento di questa sera trae ispirazione a completare la manifestazione musica sotto le stelle con live dance e tante bollicine oltre alla formula food anche fashion style e glamour complice alla particolare location di sicuro effetto e decisamente romantica a presto a presto a presto Grazie a tutti